le belle notizie, perché effettivamente se parliamo di violenza contro le donne e il 25 novembre la giornata proprio contro la violenza di genere, di buone notizie ce ne sono davvero poche, non passa giorno che non leggiamo di donne uccise o maltrattate sui giornali ma spesso la violenza è ancora più subdola e non è detto che se non ci sono i coltelli non faccia male, per esempio già con il linguaggio abbiamo un sacco di insidie delle quali magari non ci rendiamo nemmeno conto e noi proprio di linguaggio vogliamo parlare con la nostra ospite di oggi che è Manuela Claiset, buongiorno, che è responsabile delle politiche di generi e diritti del WISP, che è l'Unione Italiana Sport per Tutti, perché? Perché parliamo buongiorno, intanto grazie. Noi abbiamo invitato lei proprio in ottica di questa giornata, di questo periodo in cui parliamo di violenza contro le donne, di violenza di genere, proprio perché il linguaggio dello sport spesso ci dà esempi negativi in questo senso. Sì, questo è vero, però possiamo anche lavorare ovviamente sulla positività e cercare di vedere insieme che cosa fare. Il linguaggio è il primo momento, l'incontro che molto spesso abbiamo, quindi attraverso le parole, attraverso appunto quello che vogliamo in un qualche modo portare all'interno delle attività possiamo in un qualche modo fare violenza e fare discriminazione. Questo è uno dei lavori che appunto un ambito educativo come quello dello sport non può negare, non può sottovalutare. Come WISP cerchiamo di mettere in campo una serie di attività e di progetti, cercando anche da una parte di vedere come dare visibilità nella maniera corretta, ovviamente tutto ciò che è lo sport femminile, quello sport che riesca di essere molto spesso marginale e quindi un lavoro anche sulla comunicazione. Faccio un esempio, il lavoro che abbiamo messo in campo con l'associazione Giulia proprio su donne, sport e media, proprio per ragionare in questo modo. L'associazione Giulia, l'associazione di giornaliste. Esatto, esatto, proprio perché crediamo che le alleanze siano importanti, quindi come raccontare, come far vedere, come mostrare lo sport, parlando proprio di donne, perché prima di essere discriminate rischiano di essere loro e quindi queste idee guida ci hanno dato, ovviamente è una la molto importante per i termini giusti da utilizzare, ma anche appunto cosa fare, in un qualche modo valorizzare, vedere ed evidenziare. Ecco, Manuela, ci fa un esempio proprio di linguaggio sbagliato che usiamo magari anche noi, anche senza rendercene conto? Molto spesso rischiamo di non declinare al femminile, questo può essere un problema. Vediamo, peraltro, abbiamo visto immagine di calcio femminile. Perché molto spesso si dice arbitra non suona bene, oppure parlare di capitana, quindi di non declinare al femminile, crediamo che invece questo sia importante. Ma c'è anche un altro aspetto che ci chiama appunto in causa come mondo sportivo, tutto ciò che è quella parte di educazione, quell'ambito educativo verso quelle figure che hanno un ruolo importante nello sport. Ecco, rapidissimamente, questa mattina a Bologna la partita della parità e del rispetto, quarta edizione, dove chi gioca? Allora, attraverso momenti come questo cerchiamo di fare appunto sensibilizzazione, la partita nasce un po' di anni fa, questa è la quarta edizione, siamo al circolo Il Fossolo e l'idea nasce appunto da WISP, da ICI, da Amnesty International, da ASSIST, USIGRAI e Sport for Society, insieme al patrocino della regione Emilia-Romagna e del comune di Bologna, ma siamo insieme alla Federazione Nazionale della Stampa, USSI e una serie appunto di varie associazioni che lavorano e operano con noi. per sensibilizzare, quindi una giornata che parlerà appunto di sport, incontrando anche i centri antiviolenza, incontrando le scuole, questo ad esempio con il Manfredi Tanari mi ha fatto un lavoro specifico. E di lavoro ce n'è davvero tanto da fare. Assolutamente, perché chiediamo le loro parole. E noi continueremo a parlarne, proprio anche da questa trasmissione. Grazie, grazie molte a Manuela Claiset, responsabile politica di genere e diritti del WISP, oggi la partita della parità e del rispetto.